Buongiorno, sono Graziano Corradossi, ristorante onolimino Corradossi di Ligiale Trilofrosina Pistoia. Anche questo anno siamo qui pronti per presentare i piatti che faremo alla Toscana in bocca che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio. Uno dei piatti che proponiamo noi è la pappa pistoiese ma in versione rivisitata con aggiunta dei frutti di mare perché essendo il ristorante che facciamo più che altro pesce abbiamo voluto modificare questa ricetta che è una ricetta molto rinnovata nel pistoiese e abbiamo deciso di fare uno di questi piatti la pappa al pomodoro con frutto di mare. Grazie. 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 Grazie.